Questo video riguarda i migliori tre robot per piscina. Il vincitore della qualità è l'Aquatron D300. Il D300 è un potente robot da piscina, che con la sua potente potenza di aspirazione in combinazione con le quattro spazzole PWA e l'ulteriore spazzola vibrante raggiunge la potenza di pulizia desiderata. È adatto per acciaio inossidabile cemento, PVC, pellicola, ceramica piastrelle piscine di tutte le forme. Il 4D tecnologia di filtraggio, composta da un inserto filtrante con un elastico 3D passanti tessuto di quarta dimensione, filtra ogni contaminazione dall'acqua grazie alla vibrazione aggiuntiva. I robot da piscina BWT sono dotati dell'innovativo e intelligente sistema di controllo Smart Navigation. Il giroscopio integrato calcola il percorso ottimale adattato alla piscina per una pulizia rapida ed efficiente. In questo modo avrete la migliore forza pulente per la vostra piscina. Con un solo pulsante il robot da piscina BWT avvia il suo programma dopo la pulizia si spegne automaticamente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Zodiac Vortex 4WD. Il robot elettrico Zodiac Vortex 4WD OV 5200 è quello che ti serve per mantenere la tua piscina pulita. Adatto a tutti i tipi di piscine fino a 12X6M. Grazie alle due spazzole frontali, alla notevole potenza di aspirazione e al filtro da 100 micron, assicura una pulizia efficace e completa di fondo, pareti e linea d'acqua. Pulisce in modo efficace e completo il fondo, le pareti e la linea d'acqua grazie alla formazione di un flusso d'aria ciclonico all'interno del filtro, che consente prestazioni a lunga durata. Con quattro ruote motrici e due motori di trazione, si muove agevolmente in tutti i tipi di piscine, anche le più complesse. Questo modello è dotato di un indicatore completo del filtro che ti avvisa quando è necessario svuotare e pulire il contenitore del filtro. Siamo un'azienda all'avanguardia, nata 120 anni fa e con 700 brevetti all'attivo. Il vincitore del premio è il Zodiac OT3300. Robot pulitore intelligente per piscine interrate e fuori terra a pareti rigide di ogni forma, Max 9X4M, adatto a rivestimenti in liner, in poliestere, PVC rinforzato, cemento verniciato, per fondali piatti, con pendenze dolci e fondali misti. Solo fondo durata 2H e fondo pareti durata 2H30 con spostamenti preprogrammati per una pulizia metodica della piscina. Rimozione efficace dello sporco grazie alle spazzole a lamelle. Filtro con capacità 3L a maglia fine da 100 per trattenere detriti. Opzionale. Filtro per detriti più grandi ideale per la pulizia d'inizio stagione e filtro per detriti più fini adatto alla polvere e al polline. Robot ultra leggero e compatto. Finestrella trasparente. Filtro accessibile dall'apertura superiore del robot per una pulizia immediata. Alimentazione elettrica. Divieto di fare il bagno quando il robot è in acqua. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.